Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione! Oggi andiamo a parlare un pochettino della maglia glutinica e del glutine. Andiamo a vedere un attimino gli aspetti generali per capire un attimino anche un po' di più su questa materia. Allora, maglia glutinica e glutine. Come dico sempre nei miei corsi, la farina non contiene glutine all'interno, ma la gliadina e la glutenina, che sono due proteine, per azione meccanica, con i liquidi, forma il glutine. Quindi all'interno della farina non c'è glutine. Andiamo a vedere, quindi, le proteine che sono all'interno della farina, che si chiamano glutenina e gliadina. Sono due proteine, sono due molecole, sono due proteine, che a contatto con i liquidi, e i liquidi può essere l'acqua, possono essere le uova, la panna, il latte, anche i tuorli, perché comunque contengono l'acqua, ok? Quindi con i liquidi, le proteine con i liquidi, e per azione meccanica, quindi per impastamento, se le impastiamo in planetaria con foglia, con frusta, insomma, come impastiamo questa farina, sviluppa glutine, ok? Il glutine non è altro come un elastico, come se si forma un elastico, cioè, se noi lo tiriamo, lui torna indietro, ok? Questo è il glutine, immaginiamolo come un elastico. Il glutine, una volta formato all'interno dell'impasto, sarà più o meno così, immaginate, facciamo un panettone, giusto per capirci, ok? Se noi facciamo un panettone, all'interno lui avrà tutto un reticolo, così, di proteine, di glutine, ok? Quindi quando noi abbiamo impastato gliadina, glutenina, liquidi, per azione meccanica si sviluppa il glutine, all'interno del nostro impasto si forma questo reticolo di proteine. E questo è l'impalcatura, è lo scheletro del nostro dolce. Infatti dico sempre, ad esempio, anche nei miei corsi, impastare bene e fino alla formazione di una buona maglia glutinica. Perché se voi, ad esempio, fate un lievitato, un piccolo lievitato, un grande lievitato, e non formate il glutine, una buona fitta rette coesa di proteine, voi rischiate che poi, se non l'avete formata bene, il vostro prodotto collassa, non lievita neanche bene, perché non si è formato lo scheletro. Immaginate questa rete di proteine come lo scheletro, come le fondamenta di una casa, come proprio il fondamento di una ricetta, soprattutto nei lievitati, ok? Quindi, quando si deve formare una buona maglia glutinica, va fatto perché è la base. Se non si forma una buona maglia glutinica, ad esempio, facciamo un esempio pratico. Nei miei corsi faccio vedere il panettone, il cornetto, eccetera. E dico sempre, il burro sale aromi alla fine. Perché? Se voi mettete burro sale aromi all'inizio e impastate tutto assieme, soprattutto se è tanto burro, ok? Se è poco, lo riesce anche a gestire. Ma se è tanto burro e lo mettete all'inizio, ostacola la formazione di una buona maglia glutinica, poi dopo rischiate che non si forma questa fitta rete di proteine, il prodotto A non sviluppa bene perché non si è formato, diciamo, il velo che permette all'endride carbonica di essere intrappolato e quindi non sviluppa bene, ok? Perché fuoriesce. E poi l'altra cosa è che quando magari se non è formata bene, quando esce fuori dal forno vi collassa, perché non avete la struttura, non avete formato l'impalcatura, ok? Perché bisogna impastare bene? Per esempio, soprattutto nei lievitati, proprio per questo motivo qua. Quindi, glutenina e gladina a contatto con i liquidi si forma la maglia glutinica e bisogna ottenerla per creare, ad esempio, un lievitato che sta su, soprattutto se realizziamo panettoni, pandoro, colomba. Questa cosa è importante nei lievitati e o un po' meno importante nelle masse friabili, perché non hanno bisogno, nella biscotteria, nei pan di spagna non ce n'è neanche di bisogno. O meglio, ce n'è di bisogno in maniera finissima e lieve, ma potrebbe non essercene neanche bisogno. Adesso andiamo un po', vi spiego un po' i concetti. Quindi il glutine è un reticolo, l'impalcatura, lo scheletro. Ogni farina contiene la sua percentuale di proteine. Più proteine, più sviluppa glutine. Meno proteine, meno sviluppa glutine. Più proteine per lievitati, prodotti che devono sviluppare una buona struttura, panettone, colomba, pandoro, viennoserie, prodotti lievitati. Quindi meno glutine, prodotte, ad esempio, biscotteria, pan di spagna, cake, plum cake, masse montate, massa friabili, insomma prodotti che non devono essere elastici, perché, come vi ho detto all'inizio, il glutine è come un elastico, ok? Che darà questa consistenza un po' più gommosa, quindi se ad esempio noi facciamo una pasta frolla con una farina forte, soprattutto se la lavoriamo tanto, otterremo una pasta frolla un po' più elastica, che non va bene per la pasta frolla, ma sicuramente una farina forte, ad esempio se dobbiamo fare lievitati, grandi lievitati, che formerà questo elastico è molto buono. Infatti si dice formare al velo, cioè al velo vuol dire che tirando su questa pasta, come un elastico lui torna indietro, ok? La forza della farina. Quindi abbiamo capito che il glutine è importante svilupparlo in quei prodotti dove noi vogliamo realizzare dei prodotti lievitati, dove dobbiamo creare un'impalcatura, una struttura che mantenga il nostro dolce, ok? La forza della farina. Ho già fatto un video a riguardo, però ovviamente è indicato in questo video andare a approfondire. La forza della farina. Generalmente le farine si dividono in sei classi. Ci sono farine debolissime e farine molto forti. Farine debolissime di proteine e farine molto forti di proteine. W è il simbolo che indica la forza della farina. Un W alto, farine proteiche. W basso, farine deboli. Generalmente vanno da un 90 W, ok? W quindi è il simbolo, e non lo trovate nelle confezioni per gli amatoriali, diciamo al supermercato. È difficile trovare queste indicazioni. Infatti adesso vedremo anche se sei un amatoriale come poter capire queste cose. E poi ci sono farine forti, 450 W, ok? Che sono per... Indicate per grandi lievitati che hanno appunto la capacità di sviluppare tanto glutine. Allora, generalmente le farine deboli vanno da un 90 a un 130 W, che sono le farine proprio debolissime per biscotteria, ok? E girando la confezione hanno tra un 9 e un 10 e mezzo di proteine. Farine deboli anche queste, ok? Ma un pochettino più di glutine, 180, 130, 180 W, e hanno generalmente da un 10 all'11% di proteine. Poi abbiamo farine un po' più forti, cioè un po' più di glutine c'è, quindi 170, 200 W, hanno un 10 e mezzo, 11,5 di proteine. E ancora andiamo un po' più su, 220, 240 W, che hanno un 12, 12 e mezzo di proteine, e generalmente questo è indicato per pasta sfoglia, prodotti levitati magri, ok? E poi andiamo da una 300 a una 310, generalmente che ha un 13% di proteine. Questo è indicato, ad esempio, per vienoserie, levitati piccoli, eh? Cornetto, croissant, bomboloni, bresciane, no, bresciane, sì, bresciane sì, perché alla fine la sfoglia è una farina anzi un po' più debole, quindi diciamo croissant, cornetti, bombolone, panna ciocolat, tutti quei prodottini che troviamo in pasticceria da colazione, e poi abbiamo farine più forti, 340, 400 W, che queste sono indicate invece per panettone, colomba, bussola, e tutti i prodotti grandi lievitati. Ovviamente c'è anche più forte del 400 W, abbiamo 450 e farine ancora più forti, però questo è un altro discorso perché, ad esempio, farine ancora più forti si usano per tagliare, ad esempio, farine deboli, però è un altro discorso. Questo qui è per farvi capire in linea di massima che la forza della farina va a incidere sull'impalcatura del nostro dolce. In linea di massima, andiamo a semplificare, adesso che abbiamo visto a livello accademico, andiamo a semplificare. Il 60, 70% di preparazioni in pasticceria, quindi, torte da credenza, torte da forno, biscotteria, mignon che hanno dentro biscui, pan di spagna, docuaz, tutti prodotti con farine deboli, sono tutti prodotti realizzati con farine deboli, quindi biscotti, paste frolle, masse montate, masse friabili, sono tutti realizzati con questo tipo di farina qui, ok? Ed è generalmente il 60-70% della pasticceria. Poi, ad esempio, per la sfoglia generalmente si usa questa, 220, 240, 260V, e per la pasta sfoglia, già ho fatto un video, si può usare anche una farina forte, dipende dal tipo di impastamento, però generalmente questa è una sfoglia, e la farina è forte e generalmente si usano per piccoli e grandi lievitati. Quindi già da 6 classi lo riduciamo a 3 e poi lo riduciamo a 2 che vi spiego una cosa. Quindi le farine tendenzialmente si dividono in deboli, ok? A uso pratico poi, deboli e forti, e medie forze, deboli per fare tutti quei prodotti come biscotteria, pasta e frolle, torte da forno, crostate, panni spagna, ad acquase, tutti quei prodotti, poi farine di media forza, pasta sfoglia in generale, ok? E farine forti per lievitati piccoli e grandi. Questa è proprio la base. vi dico anche per esperienza che io ho lavorato anche in panifici, fornai, ho fatto delle esperienze, il panificio, il panificatore che è un vero esperto di farine perché lui ha l'arte nelle mani, lui generalmente ha due farine e ha la forte e la debole, non ne ha di più. già il pasticcere magari un po' più tecnico cerca le farine tecniche un po' più ma il panettiere non dico quelli più evoluti ma quelli un po' più all'antica che questo non vuol dire non buono anzi sono bravissimi anzi forse sono anche conoscono di più la materia perché ovviamente hanno la pratica loro hanno due farine la debole e la forte con la debole ci fanno tutti i prodotti friabili e con la forte ci fanno il pane lievitati e tutti quei prodotti panettone natale eccetera lo generalmente ne hanno due non ne hanno di più e quando e quando devono fare un prodotto di media forza la miscelano e fanno la farina di media forza e fanno la sfoglia per esempio questa è proprio la base generalmente ad esempio anche nella frolla si dice usare una farina debole si dice usare una farina debole perché è prodotto da essere friabile in realtà dalla mia esperienza si dice si diceva soprattutto perché una volta le farine si dividevano in forte e debole come vi ho detto e molti panificatori ancora oggi hanno due tipi di farina e non di più e quando finiva la debole si aveva la forte si faceva la frolla con la forte si diceva non impastare tanto poco perché? perché se usi una forte e la impasti poco sviluppi poco glutine perché la fasta frolla non deve essere elastica ok? è per quello soprattutto che si dice impastala poco ma generalmente con questi tipi di farine se poi usate lo zucchero a velo la maglia glutinica non si forma quasi mai se usate il semolato ovviamente il semolato fa un po' più di attrito e quindi potrebbe formarlo soprattutto anche se usate uova intere ok? però generalmente si diceva lavora poco la frolla uno perché la riscaldate ma soprattutto perché formate glutine e una volta c'erano due tipi di farine e quindi è nato da lì poi oggi che abbiamo le farine tecniche se non abbiamo una farina potete farla frolla con la farina di media forza? sì la potete fare ovviamente dovete lavorarla pochissimo ok? assorbirà un po' più liquidi e non dovete lavorarla tanto altrimenti forma elasticità e soprattutto se usate una farina più forte ad esempio per fare una frolla che non è indicato però capita voi fate il metodo sabbiato in modo tale che il burro va a contatto con la farina la impermeabilizza la indebolisce quindi evita che quando aggiungiamo i liquidi questa farina sviluppi più glutine ok? quindi come possiamo dire evitiamo la formazione del glutine ok? però a linea di massima questo è per prodotti friabili questo per prodotti forti il senza glutine tutti questi prodotti siccome la farina qui ha pochissimo glutine e quel pochissimo è anche utile da un certo punto di vista però potrebbe essere sostituito per chi non può ad esempio utilizzare farine con glutine può cambiarle ad esempio con farina di mais e farina di riso tagliare la farina con amido farina di mandorle eccetera in linea generale ad esempio anche una pasta frolla voi potete sostituire la farina normale con la farina di mais o di riso e vi viene lo stesso ovviamente ovviamente a parte che cambia leggermente perché la farina di riso assorbe un po' più liquide eccetera però ovviamente cosa succede? che è molto friabile ma molto friabile e infatti generalmente se usate il senza glutine si usano degli addensanti come la xantana la gomma di guar la metilcellulosa sono tutti addensanti che mimano l'effetto elastico del glutine se ne mette un pochissima quantità ok proprio per mimare un pochettino l'effetto del glutine per aumentare la plasticità quindi il senza glutine può essere fatto tranquillamente quindi ad esempio paste frolle pan di spagna anche il pan di spagna se voi avete una ricetta normale volete mettere la farina di riso potete farlo tranquillamente anche con la farina di mais vi viene non vi viene uguale ovviamente però vi viene ok quindi quando usate farine deboli volete cambiare la farina di riso di mais potete farlo non viene uguale non viene la stessa consistenza non viene identico però viene ok mentre invece se ad esempio avete bisogno qui di glutine non potete fare il senza glutine ad esempio un panettone un pandoro senza glutine si può fare se usate degli addensanti usate delle fibre come l'inulina usate degli addensanti metilcellulosa gomma di guar eccetera allora questi addensanti mimano l'effetto del glutine il prodotto riesce a sviluppare ma se no non riuscite ok quindi in linea generale i tipi di prodotti sono qui per fare frolla pan di spagna cake prodotti friabili farine media forza per la sfoglia come ho detto e viene usare i panettoni farine un po' più forti diciamo che per fare anche prodotti ad esempio friabili voi potete anche se volete aumentare la friabilità di un prodotto potete fare esempio tagliare la farina bianca con farina di mandorle 3 a 1 cioè togliere 100 di farina bianca e mettere 300 di frutta secca ad esempio su un chilo di farina togliete 100 di farina mettete 300 di farina di mandorle o potete ad esempio anche tagliare fino a un 30 massimo 50% ma io consiglio di solito un 30 fino a un 30% la farina bianca con l'amido l'amido o la fecola che non cambia niente è sempre amido ok perché la fecola di patate è sempre amido solamente che la patata si prende da sottoterra e l'amido invece diciamo si chiama così perché si prende da sopra la terra ok l'amido di mais semplicemente perché il mais è sopra la terra la fecola la patata è sottoterra quindi si chiama fecola ma non cambia è sempre amido poi è vero anche che adesso apro una parentesi la chiudo perché giusto che stavo spiegando è vero anche che da due consistenze diverse ad esempio nella crema pasticcera se voi usate l'amido farò una lezione amido di mais amido di riso vi da una struttura diversa che usa la fecola e un'altra ancora quindi non è che sono tutti uguali però per capirci la fecola e l'amido quindi è sempre amido fondamentalmente bene quindi questa qui era una piccola lezione per farti capire che all'interno della farina non c'è il glutine ma c'è la glutenina e la gladina che l'azione meccanica sviluppa il glutine il glutine è importantissimo nei lievitati ok perché forma l'impalcatura e la struttura e abbiamo visto un attimino la sua forza quindi le forze per poter anche capire come ci dobbiamo muovere oppure linea di massima se sei un appassionato una casalinga eccetera sappi che puoi prendere una debole e una forte e poi puoi tagliarle ok metà e metà per fare prodotti di media forza oppure come dico anche nei miei corsi quando una persona ad esempio mi dice io faccio fatica ad esempio a fare il cornetto perché faccio fatica allora dico tagli ad esempio un terzo della farina manitoba con una farina debole quindi abbassi un attimino la percentuale di proteine faciliti la lavorazione a mano perché a mano si fa fatica invece con la sfogliatrice molto meno bene quindi questa qui era un pochettino una lezione per farti capire un po' il glutine la maia glutinica e la forza della farina ti dico che al momento abbiamo attivi due corsi pasticceria lievitata e pasticceria a due forno due percorsi che ti portano da un punto A a un punto B sono proprio percorsi formativi che ho ideato per rendere le persone capaci e soprattutto padroni della materia quindi se vuoi che sia io a insegnarti la pasticceria qui sotto trovi il link direttamente per iscriverti con l'iscrizione riceverai tutti i bonus ma soprattutto la mia assistenza per un anno quindi sotto la video lezione puoi scrivere un commento e io ti risponderò per qualsiasi dubbio problema o perplessità qui sotto trovi anche il numero di telefono del mio centro assistenza puoi chiamare per capire un po' di più sui miei percorsi formativi io ti ringrazio per aver visto il video iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima lezione ciao